buongiorno a tutti proseguiamo il tour de force delle schedine e bollettine del gigione e andiamo a fare la premier league che la 26esima giornata verrà divisa tra questo weekend quattro partite sabato e domenica e la settimana prossima che faranno venerdì sabato e domenica le altre sei 26esima giornata scaglionata in due settimane quattro partite questo weekend quattro sei partite la settimana prossima partendo da venerdì e i tifosi di leicester e adesso non mi ricordo e wolverenton non saranno molto contenti perché il giorno di san valentino c'è la partita quindi se non hanno la fidanzata tifosa sono uccelli per diabetici loro perché logicamente cosa fai vai alla partita giorno di san valentino mi lasci a casa comunque o viceversa perché magari ce l'hai tifosa lui non gliene frega niente del calcio lei vuole andare allo stadio lui rimane come un pinocchio il giorno di san valentino a parte questo sponsorizzazione veloce le solite tre che faccio sempre quando faccio le schedine dei miei colleghi pronosticatore folle canale il pronosticatore folle canale l'interista dentro marchino per quanto riguarda la serie a e naturalmente mi sponsorizza anch'io lunedì sera l'appuntamento con la diretta del gigione a partire da dalle 22 più o meno magari riesco a iniziare qualche minuto prima magari 22 05 magari 21 55 però l'orario è quello se riesco prima tanto di guadagnato ma veniamo a queste quattro partite le ho dovute fare in bolletta 6 bollettine di queste quattro partite come vengono vengono non avevo opzioni di scelta c'erano quattro partite quelle dovevo fare quindi partiamo subito con everton crystal palace 1 brighton wofford 1 sheffield borne 1 e manchester city west end 1 con 5 euro 31 euro e 34 bollettina alternativa everton crystal palace 1 brighton wofford 1x sheffield borne 1 e city west end 1 con 5 euro 18 euro e 95 terza bollettina everton crystal palace 1 e spiover brighton wofford 1 e spiover sheffield borne 1 e spiover e city west end 1 piover per forza anzi city west end se volete rischiare 1 1 piover 2 e mezzo ci può stare visto che paga proprio una miseria però visto l'andazzo stiamo anche portare a casa l'uno più vero 1 e mezzo con cinque euro alla fine della fiera con queste quattro partite sono 22 euro e 09 piuttosto che niente le me piuttosto quarta bollettina everton crystal palace gol ospite sì brighton wofford gol ospite sì sheffield borne moff gol ospite sì e city west end gol ospite sì difficile perché danno abbastanza per scontato che il west end in casa del city non segni comunque con 5 euro 36 euro e 21 proseguiamo con la quinta bollettina everton crystal palace gol piover brighton wofford gol piover sheffield borne moff gol piover se marchester city west end gol piover allora everton crystal palace gol piover non è favorito per nulla siamo intorno allo 0 70 di differenza più o meno 0 80 0 75 quindi per intenderci se il gol piover è dato a tre il no gol piover è a 2 25 ecco brighton wofford è favorito il gol piover sheffield borne moff c'è un punto di differenza non sto a farvi la spiegazione a favore del no gol piover e manchester city west end stranamente il gol piover è favorito nonostante i bookmaker tendenzialmente non vedono troppo di buon occhio il gol lettino del west end però il gol piover è stranamente favorito con 5 euro se ne vengono 177,23 con questi quattro gol piove ultima bollettina il combo uno più gol o x più gol eccetera eccetera perché come mi spiegavano o due più gol mi spiegavano fare gol piovere è abbastanza inutile con una fissa con l'uno perché è normale che devono uscire tre gol quindi everton crystal palace uno più gol brighton wofford uno più gol sheffield borne uno più gol e city west end uno più gol con due euro se ne vengono 332,39 con 5 euro 830,98 visto e considerato che l'uno più gol di queste quattro partite non è per nulla favorito ma preferiscono il no gol vi ho fatto anche la schedina alternativa con il no gol di tutte quattro quindi everton crystal palace uno più gol brighton wofford cioè scusate everton crystal palace uno più no gol brighton wofford uno più no gol sheffield bornevoff uno più no gol e city west end uno più no gol l'unico che potrei consigliarvi di lasciare il gol è brighton wofford l'unica l'unica partita se volete fare l'inversione fare il no gol poi vedete voi comunque con i no gol quattro no gol e le con due euro se ne viene con 75,05 con 5 euro 187,64 purtroppo ragazzi miei c'erano solo quattro partite del del weekend calcistico della premier e quindi ho dovuto fare di necessità virtù settimana prossima avremo sei partite ma una è al venerdì quindi avrò solo cinque partite da scegliere detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao